Bene amici ecco il Power 3 di Ulephone, praticamente un battery phone perché vi dico subito mi ha consentito di fare oltre due giorni stress dei miei Andiamo a vedere in confezione che cosa c'è dentro La coverina che non serve, serve solo a farlo diventare più grande, più pesante, già lui pesa un botto, 210 grammi Poi la garanzia, le piccole istruzioni, un vetro anteriore, comunque Gorilla Glass davanti Il caricabatteria è importante che sia rapido, il way fast esce a 15 watt e a caricare la batteria da circa 31 watt ora ci mette 2 ore e un quarto Abbiamo poi il cavo USB da una parte tipo C dall'altra, il cavo per collegarlo a chiavette USB, l'OTG per intenderci E poi purtroppo il cavetto per le cuffie perché non c'è l'uscita jack cuffie ma c'è l'adattatore da tipo C a USB diciamo micro Lo sblocchiamo, come vedete il sensore posto dietro è abbastanza veloce, diciamo un secondo e mezzo senza fame e senza lode Lo guardiamo dietro, doppia camera, doppia camera anche davanti, sì 4 fotocamere che se messe tutte insieme forse avrebbero fatto le foto bene Così magari diviso 4 non benissimo ma ne parliamo dopo, doppio flash LED qua dietro, design ma abbastanza bellino così così Da tenere in mano, scivola un pochino ma è proprio il peso quello che è un po' critico e anche lo spessore perché è spesso ben 9,85 mm Quasi un centimetro, pulsante accesso di spegnimento zigrinato, poi sopra non c'è niente e cavolo ma non potevate mettercelo qua un jack Vabbè non ce l'hanno messo, da questa parte lo sportellino scorrevole con o due sim o una sim più la micro sd e qua sotto altoparlante e microfono e tipo C Comincio prima davanti, vedete qua le due camere, c'è anche il flash anteriore, bello il fatto che il display sia leggermente stondato alle estremità E' un 18 noni come rapporto di forma e soprattutto a farlo girare c'è il nuovissimo processore Helio P23, il 67, 63 di Mediatek E purtroppo rimane di Mediatek ma rispetto agli altri telefoni provati con questo tipo di processori, Mediatek in generale, questo devo dire che va forse un filo meglio Perché sì, è sempre un pochino gommosino, ma lì secondo me il difetto è più del display, del touch del display rispetto al processore Ma almeno rispetto ad altri telefoni non scalda particolarmente e non va in crisi quando scalda L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è la tastiera, non tanto perché sia quella stock di Google, anzi no, quello mi piace E quanto perché, e qua rientra in gioco la sensibilità del touch, a volte fa degli errorini Soprattutto dopo tanto tempo che lo si utilizza, a volte non riesce più a prendere il doppio tocco Però rispetto, e qua lo dico a caratteri cubitali, altri smartphone cinesi con ROM Mediatek Questo è molto meno laggoso e soprattutto ha molti meno bug E soprattutto, lo dico per la terza volta, non ha il bug del sensore di prossimità che funziona sempre bene quando lo mettiamo all'orecchio Quello è uno dei bug più fastidiosi Ma torniamo al telefono, Android 7.1.1, arriverà Oreo in marzo 2018 C'è anche la possibilità di sbloccarlo, oltre che con l'impronticitale, con il volto va due volte su quattro Quindi o anche una volta su due non benissimo E c'è qualche menu personalizzato, la possibilità di catturare velocemente lo schermo L'uso a una mano e alcune gesture, che alcune sono anche smart, tipo questa qua di unlock O anche la possibilità di spegnerlo tappando due volte qua sul tasto home Devo dire non male da quel punto di vista, però come avete visto non sono purtroppo opzioni tradotte in italiano Vabbè, poco male Camera anteriore 13 più 5, posteriore 21 più 5, c'è la radio FM Ma vi faccio vedere le fotografie come vengono Prima di tutto prova di HDR e non HDR, questa ovviamente con HDR e questa è senza HDR La prova del bokeh, ragazzi, queste quattro fotocamere dovrebbero servire a scontornare bene Soprattutto la seconda camera da 5 megapixel, ma non ce la possono fare E poi vi faccio vedere l'interfaccia della fotocamera e perché non ce la può fare Foto standard, comoretto, guardate i colori Tutte queste foto virno tendenzialmente a un bianco molto caldo, al rosino, al giallino Questa camera anteriore, che comunque come definizione c'è, ma i colori non tantissimo Per quanto riguarda invece i video, state vedendo adesso un video che sta girando Beh, avete visto questo Ecco, questo era perché qua mi era andato in crisi il display, come vi dicevo prima E quindi non riuscivo a fare il pinch to zoom per fare la zoomata Comunque video, diciamo, così così Addirittura registra ancora col vecchio formato 3GP Foto con poca luce, giudicatela voi Abbastanza brutta Anteriore con il flash, utilizzato, abbastanza brutta Al tramonto, foto abbastanza brutta Quindi sulla fotocamera, sinceramente, purtroppo non ci siamo Se l'Urephone è migliorato per quanto riguarda affidabilità, fotocamera no Perché fa un po' ridere? Ve lo faccio vedere subito Guardate, faccio così Camera anteriore Face Beauty, no blur Che è l'effetto bokeh Praticamente lo posso regolare Posso aumentarlo e diminuirlo Ma guardate cosa succede Praticamente mi tiene a fuoco un pallino in centro Quindi ovunque mi metto sono sfocato Se non nel caso io stia nel pallino in centro Quindi non funziona assolutamente la seconda camera Per capire la profondità degli oggetti Ma è banalmente un effettaccio software Il GPS non è reattivissimo Però devo dire che è abbastanza affidabile Anche qua rispetto ad altri smartphone Cinesi di questo rango funziona meglio Vi ho già detto della 7.1.1 Non vi ho detto che comunque le patch sono di dicembre 2017 E tra l'altro proprio stamattina mi è arrivato un Aggiornamento del software Cosa vi posso dire Oltre che il display è un full HD plus Ed è abbastanza buono Non è troppo Diciamo Le impronte non rimangono tanto La luminosità automatica va abbastanza bene Insomma rispetto al solito Ho trovato un software un pochino meno buggato Da un punto di vista audio bene Ma non benissimo perché non c'è il jack per le cuffie Nel frattempo vi ho chiamato il 190 Dual SIM gestito comunque abbastanza bene Si sente non benissimo dall'altoparlante integrato Cioè non ha un volume altissimo Si sente bene ma non altissimo E soprattutto quello che dicevo prima Il sensore di prossimità Vedete funziona sempre in maniera buona Si sente bene anche dalla Diciamo dalla capsula auricolare integrata E anche la ricezione devo dire che non è male Quindi da quel punto di vista Devo dire un pochino più affidabile del solito Batteria che dura tantissimo Quanto costa? Su Amazon una fucilata Una follia non lo comprerei mai Quasi 300 euro 298 Allora forse è più senso per questo tipo di smartphone Comprarlo su siti cinesi Gearbest lo vende a 190 euro Si può utilizzare tranquillamente come arma di difesa Perché pesa tantissimo Non è tanto ergonomico Però devo dire Meno Peggio Di altri smartphone Testati Anche della stessa Ulefun Un saluto da Andrea Galeazzi .com Ciao Ah ultima cosa Voi speravate che non ci fossero più le applicazioni Targate cartagine di Android Tipo Boh 3 4 5 Non mi ricordo neanche Che versione fosse quella con queste app No Quelle ci sono ancora Chissà se Lasceranno anche con Oreo Non mi ricordo che non ci fossero più le applicazioni di Android Non mi ricordo che non ci fossero più le applicazioni di Android